quando ti interessano davvero gli ingredienti naturali quando cerchi equilibrio e forza senza rinunciare alla qualità ti serve quanto di meglio madre natura possa offrire dalle mani di coltivatori di cui puoi fidarti per questo abbiamo creato 3 blend select un frullato con proteine vegetali complete abbiamo attentamente selezionato e sapientemente combinato questi ingredienti perfetti per creare un frullato naturalmente delizioso perché possa smettere di cercare e pensare a vivere bene Grazie per la visione